I grandi momenti derivano da grandi opportunità. Siamo all'inferno adesso, signori miei. Credetemi. E possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi. Oppure aprirci la strada lontana, verso la luce. Possiamo scalare le pareti dell'inferno un centimetro alla volta. In questa squadra si combatte per un centimetro. In questa squadra massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi per un centimetro. Ci difendiamo con le unghie e con i denti per un centimetro. E sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfiggia. Andate fuori e vincete. Questo è il vostro momento. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti non è importante come colpisci. L'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri. E se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. Così sei un vincente.